Bella ragazzi, per te e sul canale di granats siamo tornati oggi qui con il nostro Godfrax, il nuovo pack opening Ah, io... Sì, lui... Eh, perché sono usciti centrocampisti e speriamo di trovare qualcuno, soprattutto un cross perché ci servirebbe molto a noi per la Bundesliga Anche perché ci avrebbero già in Real Madrid Eh, teppiro, c'è ragione no 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 questo è verificata riserva che ti vedo i conti di quello formato per il gioco più non sei perché tostanto scurito tanto c'è santa sette lo scherz per il santo se ne avrò di questo no 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 comunque la caccia di scolta di te diciamo che ci ha dato i credi che cosa si è vero che ci ha dato i crediti quindi state tranquilli non me la sono presa sul momento volevo menaglie non gli ho menato perchè non lo voglio no raga lo sledge è incoglione è nato e li ha insultati tutti in massa like lionel attenzione lionello ooooh grande per Eira mamma mia show out per Eira grande persino per Eira da me ne fai apri uno questo momento no adesso sta a me credibile credibile attenzione ancora lionello lionello i piccoli ooooh cazzo questo parisangermelo ho detto dai siriku is not bad mollo basta no va mollo tutto mollo qui in diretta mollo qui in diretta mamma mia ti sto dicendo di si adesso questo lo scattolo di ti hai detto e vai dai porterò fortuna gondalito sei imparlato comunque oh lei c'è ancora un giro ma Matteo ciò non puoi interromper il giro così eh è vero forca sfida dai lionello 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 mi ha trovato il giro mi ha trovato il giro è il coglione vabbè oddio ecco su c'è una cappella e dai adesso apri Matteo pazzesco credibile ne avremo anche 3 di quelli di quindicimila perchè io ho deciso così ho salito oh carica soddisfazione ti fammi trovare un blu cioè starà mo ti fanno trova tipo un conte fanno trova uno che è blu no un conte del sangue blu pensi che non è tale di deno il giardino dell'Ether eccolo uno blu eccolo come se è uno blu giusto mo trovi uno del censo ecco mamma mia higuain e pipita quando trovi higuain questo è la legge dell'epoca vuoi vedere capore vuoi vedere capore la faccia ahahah 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 c'è per l'altro video facevo il dildo ahahah ahahah però c'è il cervello è questo che testa che c'è eh si fai giocato a pallone il d è l'ultimo l'apri tu ok intanto apri la te quindi apposto vai da guard che ti fai schifo oddio ho visto paris angel man Naldo che ci fanno c'è mui fa ma Naldo no Fai known questo va av naturalmente incredibile grande ed è no il giardino a cucitare ancora i cugini ma guarda come lo serait normale invece measured mi ha porti poco sfiga comunque T婦, il giochettico è travi da sé fratto Cosa dici? La gente No, che dà Eh questo ma che troppo è più disponibile O... O... o.... Frax incredibile Bella, fratello Sout Vedi perché a me gli apri quelli normali? Grande, quello da sette e mezzo eh, due volte Griezmann Griezmann è... Chi fa? Benvenuto Vesciano l'Ors Nama Futurama Grazie, ciao Avremo Vabbè, il primo dice Ah, no, eh Pionello, questo è buono Tre fa tutto, tre fa tutto Cacà Fosse stato tre anni fa Va cacà sulla palla Tre anni fa sarei pestato il giocatore più forte Sarei pestato il blu perchè il pallone è toro Trololololol Jonathan, incredibile perchè gioca ancora? Non è morto? Io ho prima una sette in mezzo E' stato mio quasi trovo Allora, questo è il primo pacchetto che ha aperto veramente lui Guardate l'argento Guardatelo Guarda che mi piace l'argento Beh, 77 Comunque Bandele Questo qua rabbina è bunker Ok, ultimo pacchetto Che poi ce lo teniamo anche per gli attaccanti Ah, questo non lo vedo Poi ce ne sta un altro io Attenzione Ah, guarda, porta Lui, l'ultimo Lui, cioè Ah, guarda E io non te lo faccio vedere Ah, un tipo fresciato riberivo Dai, lo giuro con le mani Abre il pacchetto Abre il pacchetto Abre il pacchetto Abre il pacchetto X, fai X X Aspetta, poi sui ancora X Vai su Su Con quello Va bene E ti sento La mamura Qui esatta addosso Abre il pacchetto Se sono guangati Oh Occhio e teno Oh Oh, la mela Va, 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 va Ma se la mela cade Si sbuccia Se cade sull'asfalto Si La sostanza proprio da battuta Il video Il video Aspetta, faccio io l'altro Il video è finito Gli invito a lasciare un mi piace Un commento E soprattutto a dire se volete fare altri pacchetti come questo che ho aperto adesso con... Ok No, c'è un creduto No, ha visto... Ha visto male Ha visto male Ci sono tutti E quindi niente Dovete lasciare assolutamente un like E... Iscrivervi al canale Se ancora non lo hai visto Basta, non c'è troppo bisogno Ovviamente poi dovete passare sulla pagina Facebook, Instagram e tutti i profili personali No, no, no Dovete passare sulla pagina di Facebook i profili personali Ma... Ricordatevi anche, signore e signori che... Questi due bellissimi ragazzi hanno un profilo Instagram A cui tengono veramente tanto Quindi dovete passare su questo profilo Instagram Perché su Instagram proprio caricano tante foto Addirittura... Pensa... Mi ricordo ancora, no? Quando tu... Ieri sera No, dimmi poi se non è vero Se quando tu ieri sera Mi hai detto Oh Fra, ho trovato una nuova applicazione Che è fantastica per modificare le foto Si chiama Piclab E non è un product placement E la Piclab costa 2€ Mi presti il tuo account Mi presti 5€ Mi presti 5€ Così con il tuo account Stavo dicendo Che... Potrebbe anche essere una cosa positiva Comunque questo è l'ultimo pacchetto Vabbè Luis Gustavo Che te magnavi poi che gustavi sempre Non se sa Gustavo la mazza Gustavo la minchia Tocca di compiegare il sorgso No, vabbè non è vero Ti servono 2,75 Eh ma qua c'è stato un libro a motomassare No, un 50€ No, un 50€ Passa, passa, passa Infatti vado L'ha aperto lui L'ha aperto lui Ragazzi Bracikoski 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 è ti eh Ecco che cazzo da non compra' come esterno No, vabbè, anche a Schakiri Vaffanculo È Bracikoski eh No, è forte in culo un Bracikoski Guarda che Bracikoski Guarda che Bracikoski È moltooo Ma una bestia Comunque ragazzi, che mi è piaciuto? Lasciate un like E noi ci vediamo al prossimo pack opening Quello dei Toti Bella Quello degli attaccanti Toti Quello degli attaccanti Toti Bella 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 E al prossimo video Un pacchetto No Vabbè, possiamo andare con un soldato Dove morire adesso Le caglie di cazzo